Mascherine addio, anzi no. Dopo l'iniziale annuncio di voler cancellare l'obbligo di indossarle all'interno degli ospedali e delle RSA, il Governo ha optato per il mantenimento della linea di prudenza. Ma nel primo Consiglio dei Ministri, dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, è stato anche deciso di riammettere in corsia, da oggi, tutti i medici e gli operatori sanitari in OVAX sospesi dal servizio. Una misura che ha suscitato sconcerto nella comunità scientifica. Ne abbiamo parlato con i massimi virologi italiani Fabrizio Pregliasco e Matteo Bassetti. Per quanto riguarda la proroga delle mascherine negli ospedali, credo che raramente si sia vista una così forte levata di scudi da parte di tutto il mondo sanitario come quello che abbiamo visto. Quindi diciamo che l'annuncio di voler levare le mascherine degli ospedali e delle RSA è riuscito a combattare il fronte dei medici come mai lo era stato negli passati due anni e mezzo. La misura dell'obbligo vaccinale per i medici, per gli operatori sanitari in genere era assolutamente appropriata e andava fatta e io credo che sia giusto. Io personalmente la rivendico. Purtroppo si vuole dare voce allo 0,7% dei medici e in qualche modo dare uno schiaffo al 99,3% dei medici che si sono vaccinati. Io credo che un medico che oggi non si vaccina, un medico che non si vaccina per il covid ma che non si vaccina per altre malattie infettive non è un buon medico. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto non si tratta di un provvedimento ideologico. No, è esattamente un provvedimento ideologico, è esattamente il contrario perché qui i medici che hanno deciso di non vaccinarsi l'hanno fatto in maniera ideologica, non l'hanno fatto in maniera scientifica. Cioè un medico che oggi dice che non si vaccina e va a fare proselitismo contro i vaccini è un medico che fa ideologia, è un medico che non fa scienza perché mi pare che i risultati siano di fronte agli occhi di tutti di quelli che sono stati i risultati delle vaccinazioni. Credo davvero positiva questa presa d'atto che sia necessario ancora utilizzare le mascherine. Ovviamente ora possiamo permetterci un uso delle mascherine mirato, legato per esempio a persone fragili. A me è piaciuto un po' questa presa di posizione rispetto a un anticipo di ciò che comunque era previsto dovesse andare a scadere. È chiaro che c'è in ogni comunità chi la pensa diverso, chi ha dei dubbi, ma davvero sulle vaccinazioni ci sono delle certezze.